Gianluca Favetto, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontare la storia pubblicata dalla casa editrice Aboca nella collana Il Bosco degli scrittori che è stato al Salone del Libro di Torino, sicuramente lo stand di Aboca è stato lo stand su cui si è parlato di più perché era veramente un bosco, vero Gianluca Favetto? Così, era un bosco dove ci si sentiva a casa come, permettimi di dirtelo, ci si sente a casa nel posto delle parole e come ci si sente a casa forse nella letteratura e nel mondo, con le cose ispide che sia la letteratura, che il mondo, che le piante, che i boschi hanno, però ci si sente a casa. Sentirsi a casa è tutto dire, sta lì un po', il senso anche di ogni cosa, sedersi a casa significa sentirsi bene. Noi ci siamo sentiti bene in questa storia che si sviluppa per circa 280 pagine, Biula delle Betulle, in copertina leggiamo la descrizione, l'atidascalia famiglia, betulacee, genere betula, o betula, spero di non sbagliare troppo, specie, la betula bianca è una pianta caducifoglia a crescita rapida che raggiunge i 30 metri di altezza a fusteretto, corteccia bianca, infiorescenze gialle e foglie romboidali, è una pianta eliofila e forma boschetti in montagna e molto diffusa in Piemonte, ma questa betula è arrivata in Piemonte da molto lontano, perché la betula in verità arriva dal nord Europa. Ecco, e grazie a questa betula si sviluppa questa storia di Gianluca Favetto, Biula delle Betulle. Biula, diciamocelo pure, è la dizione in lingua piemontese Gianluca Favetto. Sì, poi l'ho scritto nel dialetto particolare, perché poi la grafia del dialetto del mio paese, diciamo, da dove partì mio nonno per andare in giro per il mondo, si chiama Ruegliese ed è diverso se noi lo parliamo a Torino non ci capiscono, quindi è anche, c'è stato un personaggio del paese che ha inventato anche una grafia ricca di K, di V, di trattini, di grassetti, di puntini, di dieresi, per dire che nella nostra lingua, nel nostro dialetto, parlato da duemila persone al mondo, ci sono undici vocali. Ah, però. Comunque, è scritto così Biula con Lilunga ed è un giro per il mondo, anzi un giro del mondo perché era la scommessa, anzi la cosa che mi è venuta subito in mente quando Antonio Riccardi mi ha chiesto un libro di scegliere un albero e a me sembrava che la Betulla, quando me l'ha chiesto c'erano già in previsione 8-9, già fatti 8-9 libri, l'avranno già scelta, invece nessuno l'aveva scelta. Io l'ho scelta perché era l'albero della casa qui di montagna, mio padre mi raccontava che da piccolo, con i suoi compagni, da piccolo, da ragazzino, sceglieva le Betulle non troppo giovani e non troppo vecchie, salivano fino in cima e poi facendosi pendere si facevano portare fino a terra perché, come sai, la Betulla è un albero flessuoso. E poi perché la Betulla è un albero, adesso la dico male, ma mi viene plurale, è un albero comunità, raramente vede una Betulla sola, anche Chekhov e Stanislav che hanno dovuto mettere nella scenografia delle tre sorelle tre Betulle. Le Betulle vanno di gruppo, fanno comunità e segnano il terreno, preparano il terreno per gli altri alberi, sono degli alberi che passano il testimone. E avendo idea di tutte queste cose qua, mentre al Salone del Libro del 2019 Antonio me lo proponeva, mi è venuto in mente, vabbè, allora io con la Betulla non sto in un posto, le radici, come sai, perché abbiamo parlato insieme anche di altri libri che ho scritto, per me sono mobili, vanno, e quindi mi sono alzato da quel colloquio con Antonio dicendo che va bene, la Betulla, quindi boschetti, alberi plurali e però voglio fare il giro del mondo, non voglio stare fermo in un luogo. E sono partito da lì e ho fatto veramente il giro del mondo, per assonanze, per analogie, per empatie ed empatie, sapendo che la Betulla può essere un uomo, ma può essere anche un corteo di alberi. Eh sì, perché le parole che raccontano la Betulla raccontano anche il viaggio di una persona. Uno parte, va senza guardarsi indietro e fa sbaglia, esplora, si illude, costruisce. Comunemente tutte queste azioni sono dette vita, anche le perdite di tempo, l'ozio, le ansie, le sconfitte, e poi ritorna. Arriva fino al cielo, magari, e torna dove ogni volta non è più chi era. La mia vita sono le vite degli altri. Ecco, tutto questo romanzo si compendia proprio in quest'ultima frase, la mia vita sono le vite degli altri. È la vita di una Betulla, come dicevi poco fa, che vive di gruppo. La vita di una Betulla è la vita delle altre Betulle. Così, sì. Ma come anche per noi, non credi, l'ho presa Betulla, tieni conto che poi, appunto, Biula è il soprannome, mi sono inventato, che dessero a una persona qui in paese. Parto quindi con questo Biula che va a Venezia, poi da Venezia si passa a San Pietroburgo e si fa il giro del mondo. Ma mi è servito quello, perché quando sono arrivato in Canada con le Betulle affacciato sull'Atlantico, dall'altra parte, dove le trovo le Betulle? È lì, che mi è venuto già in mente prima, ma se con un uomo soprannominato Biula, tra l'altro, è quello che mi ha fatto partire il racconto, perché c'era al paese un uomo che soprannominava Biula, proprio, era uno alto alto, uno nato negli anni trenta, uno alto alto, uno e novanta, pensa, chi ha fatto il granatiere a Roma, quindi molto alto, con la faccia bianca, lungo, che suonava la tromba nella banda, eccetera. I suonatori bevono e quindi quando lui beveva suonava meglio, soltanto che sia camminando che da fermo suonava e ondeggiava, all'era mena Biula al vento, era come una Betulla al vento e non cadeva mai e suonava sempre, no? E quindi per questo lo chiamavano Biula, alto, bianco, ondeggiava senza mai cadere. Ma sai come si chiamava di nome proprio? Gelso. Allora, uno che si chiama Gelso e che lo chiamano Betulla, poi me lo sono inventato, però mi fanno partire e mi fanno vedere che c'è un'altra Betulla lì in Spagna che ci aspetta quando noi sbarchiamo. Ed è una Betulla con accanto un ulivo. Don Quixote, dimmi se non è una Betulla con la sua armatura lucente, la barba bianca, secco, alto, e Sancio Panza se non è il suo ulivo. E allora, questa cosa qua è l'idea del passaggio di testimone che io credo che valga anche per gli uomini, padri, figli, nonni, nipote, figli, insomma, e le Betulla le fanno così. E il mio giro del mondo è un passaggio di testimone, vai avanti, continua tu la mia storia. E io ho bisogno di te perché la storia continua. Io ho bisogno di lettori, se ha bisogno di ascoltare anche le storie, perché questo è un libro che ha bisogno di essere letto e anche ascoltato, nel senso proprio di ascolto intimo, di quello che racconta questo personaggio che va in giro per il mondo. Ed è veramente una cosa straordinaria per provare a entrare nello sguardo di questo personaggio, di Biula, l'ultimo della famiglia dei Bundeis, spero di pronunciare bene. Il suo sguardo è uno sguardo interessato, uno sguardo pieno di sogni, anche di paura ovviamente, ma soprattutto c'è una parola che entra sempre. Il senso dell'avventura, il senso dell'avventura nel senso più pieno del termine. Oggi forse non è più tempo di parlare di libri di avventura, lo si faceva un tempo. Ma sai, guarda, sto facendo una piccola cosa, lavorando su Graham Greene e Marguerite Duras sul Vietnam. E lì c'è l'avventura moderna, lo si faceva un tempo. Se uno pensa ai grandi dell'Ottocento, però Graham Greene e la Duras fanno grande letteratura, la Duras quando parla del Vietnam, grande letteratura, però come li puoi definire i loro romanzi? Se dobbiamo proprio definirli, aspetta voi critici, però non sono romanzi di avventura? E l'avventura non è anche quella che scende nel profondo di te. Non è un romanzo di avventura, lo disse di Joyce. C'è bisogno di avventura e di ventura. Sì, perché l'avventura, anche qui andiamo nel senso plurale proprio del termine. A proposito dell'avventura, Piula è come tanti ragazzi di quel tempo. La prima volta che lascia casa e fa il viaggio è la volta che va a militare. Va a militare e scopre Roma. E qui comincia proprio il suo viaggio intorno al mondo. E come diceva poco fa, Gianluca Favetto lo porterà poi a Venezia, lo porterà in Canada, a Montreal, lo porterà poi in Costa Azzurra, lo porterà sulla prospettiva di San Pietroburgo. In sostanza è un viaggio intorno al mondo. E questa betulla, sempre così flessuosa, è un uomo che si adatta alla vita. Ma dicendo adattarsi non è uno che dice no, mi adatto e non faccio nulla. Ma è un senso, più che adattarsi a seconda alla vita. Ecco, forse ho sbagliato termine dicendo adattare. Adesso mi fai venire in mente, forse è abusato, però surfa. Ma non galleggia, fai sopra e ne tieni conto di quello che succede. Non è che puoi far finta che l'onda ti arriva molto alta e tu fai finta di niente. Ecco, a secondi, è meglio a secondare che adattare. E poi questa storia fa il giro del mondo e vai in su e in giù per il tempo per cento anni. C'è una frase in esergo che sovente mi andavo a rivedere perché è una frase che mi ha toccato parecchio. Uno può avere un focolare ardente nell'anima e tuttavia nessuno viene mai a sedersi accanto. I passanti vedono solo un filo di fumo che si alza dal camino e continuano per la loro strada. Era Vincent Van Gogh che scriveva questa frase. E questa frase Gianluca Favetto mi ha toccato così tanto che ogni tanto sentivo il bisogno nel corso delle letture di andare a leggere e questo focolare di cui nessuno se ne accorge. Tutti passano avanti e non guardano. E la solitudine immensa. Pensa che fortuna quando vai a raccogliere le storie delle persone. Sei quello che finalmente, guarda che ti arricchisci tu, ma arricchisci anche l'altra persona. È lo stesso rapporto stretto che dovrebbe esserci fra lettore, e lo dico da lettore, e scrittore. Vai ad ascoltare le storie degli altri non per rubarle, ma ti siedi lì e l'altro ti accorre nella sua storia, dandotela. Poi può darsi che tu ne faccia un articolo di giornale, un pezzo di teatro, un libro, però la cosa bella e stupenda è quello scambio lì che succede. La citazione che hai detto, queste parole, che sono disperate, hanno la disperazione, il romanticismo e l'incanto. Hanno proprio tutta la natura visionaria di Van Gogh. Io le trovo belle, mi sembra, le ho trovate mentre incominciavo a scrivere il libro. E ho detto ma guarda, questa cosa qui, ed è rimasto da quando ero già, stavo iniziando il secondo capitolo, tac, quindi ero ancora lì a raccontare come è nato Biula, è come se ho visto quella cascina, tu passi davanti a quella cascina, vedi, ma non ti fermi. Allora fermiamoci e guardiamo e andiamo a vedere la sua vita, che è anche un po' la nostra vita. Alcuni giorni fa abbiamo incontrato qui nel nostro piccolo posto delle parole l'antropologo Vito Teti per il suo ultimo saggio La Restanza, pubblicato da Inaudi. Ed è un attraversamento del restare e soprattutto del partire. E qui ritrovo anche quel senso di quelle parole con Biula. Sì, lui gira il mondo, ma va di volta in volta e lascia sempre il posto dove è restato fino a poco tempo fa. E a un certo punto, a un certo punto, uno ring, se non ricordo male, altra bella figura, gli dice ma, se ricordo bene che lo dica lui, se tu te ne vai, guarda che io poi me ne vado, guarda che qui non resta nessuno. Queste parole sono parole fondanti. Sì, sì. Perché sono fatti? Sono fatti. Noi voi siamo abituati. Sai quella cosa là che ti dicono sempre, tanto fai solo parole, fuffa, i parolai, eccetera. Dipende da come le usi. Perché fatti non foste a vivere come brutti. Le parole sono fatti, decidono le cose. Raccontandole le fanno esistere. Non ci capita, no? Ogni volta che noi riraccontiamo un dolore o una grande passione o un piacere, hai la capacità umana di farle rivivere lì, anche se sei al bar e le racconti al bar, anche se le racconti a cena e se le racconti in un libro, ecco, nel racconto, ecco, sai che a volte, non so se lo trovi anche tu, ma a volte gli scrittori, i deputati, grazie editoriale a raccontare storie, si impalcano un po', dimenticano che viene dal suono della voce il racconto. Non lo so se, ecco, allora lì è difficile che ti facciano accadere la cosa davanti con le loro parole. Forse perché troppo costruiti, forse perché troppo, ma dico male, saputi, non so perché, ma capisci, forse perché troppo ufficiale. Sai cosa mi è venuto in mente, scusa se ti interrompo con queste due parole, mi è venuto in mente quando con Clara si deve fare una foto, no, in questa storia, a un certo punto dice, ma tu non preoccuparti, mica devi metterti in posa, fai le cose tranquille. Ecco, forse queste parole entrano in quello che dicevi tu poco fa. Sì, grazie, bravo, mi ha aiutato, così, perché non ti vibra qualcosa quando qualcuno con il racconto della sua vita, con la sua visione, tac, ti racconta, ti riracconta quando è morto il ferrarista Ayrton Senna o quando è morto Villeneuve e ti raccontano l'incidente e tu vedi ancora la macchina che vola, quindi ti raccontano un fatto sportivo o ti raccontano un funerale, una gioia, e tac, quella cosa lì, ed è fatto tutto di parole, ed è fatto tutto di parole che entrano in te e ti sommuovono qualcosa e non sono fatte apposta per farti provare quel sentimento. Le parole, quando tu racconti, non è che tu vuoi far provare, ecco a volte lo scrittore sbaglia, non è che tu vuoi far provare un sentimento, vuoi semplicemente raccontare una storia, cioè apparecchiare un luogo, un posto dove le parole facciano condividere delle cose, apparecchiare un po', ecco, romanzi, racconti, poesie, sono tutti i posti delle parole, dove uno da lettore va e li abita per un mese, per un giorno, ecco, mi fa venire in mente questa idea qua. Io ho aperto proprio in questo momento la pagina con alcune sottolineature tra le altre dove racconti di Don Chisciotte, quest'uomo verticale, ecco, un uomo verticale, anche lui un uomo flessuoso, Biula è molto Don Chisciotte. Dimmi tu se non è flessuoso Don Chisciotte, lo è Biula, nonostante le botte che prende c'è la dignità della sconfitta di Don Chisciotte, si rialza e quando poi perde veramente il duello e alla fine della prima parte torna a casa, cioè è uno flessuoso che come hai detto tu asseconda ma non si adegua, no? Mi piace più assecondare ormai di adeguarsi, non si adegua alla vita, no, figurati, però asseconda l'avventura, ecco, c'è il destino, no? Lo asseconda, però ha sempre la sua visione e si rialza, è una, come dire, è una battaglia persa, non lo sconfiggia mai dentro, è un po' come Biula, sì. È un po' come Biula che, come all'inizio del romanzo c'è scritto nel capitolo 1, se non il futuro cos'altro cerchi e prima ho letto l'explicite di questo romanzo, ma l'incipit è altrettanto straordinario, chiamatemi con il mio nome, dice, ricorda qualcosa? Eh sì, non lo so, da quando, pensa tu che Melville quando l'ho letto, l'ho letto secondo me in un'età sbagliata, perché l'età in cui se uno amava la letteratura, bisogna leggere tutti, devo dire che ho preferito miliardi di volte Faulkner, Hemingway, perché l'ho letto a vent'anni, ventiquattro, venticinque anni, insomma, era un romanzo per me allora troppo avanti, sai che no? Sai che Moby-Dee quando l'hanno pubblicato ha venduto tremila copie, era il 1851 mi sembra, o il 1854, l'hanno pubblicato ottobre negli Stati Uniti d'America e a novembre in Inghilterra, lui era uno scrittore di successo con dei romanzi d'avventura e ha venduto da lì fino al 1920, quindi in 70 anni, ha venduto tremila copie, stroncato, Melville ha praticamente smesso di scrivere, ha scritto solo un racconto, si è dedicato alla poesia durante la guerra di successione e ha fatto e ha lavorato al porto di New York, uno stroncato totalmente, perché che farà mai? Questo romanzo qui che non si capisce, che è fatto da patchwork, che il protagonista arriva a metà romanzo, che ci sono degli elenchi, che c'è i giornali, tutto, e poi un critico inglese, adesso sbaglio di qualche anno, ma 1920-1921, dopo, anni dopo l'uscita di Joyce, dice, ma è un critico inglese? Dice, ma questo è un capolavoro. E quindi con 70 anni di ritardo, hanno incominciato a dire, ma Melville è un altro come Whitman, come author che ha fondato la letteratura nordamericana. E da allora, soltanto dal 1920, qualcuno ha incominciato a guardare con occhi diversi, poi in Italia, grazie a Pavese, al Moby Dick e a questo romanzo monstre, che era un romanzo insolito per l'epoca. E beh, insomma, quando l'ho letto io, ma una quindicina di anni fa sono tornato per lavorarci, ed è francamente una cosa stupenda, questo Chiamatemi Ismaele dice tutto. Chiamatemi Ismaele potrebbe essere il più corto racconto dell'universo, perché con Chiamatemi Ismaele dice tutto. Dice che sei il reietto, che sei quello che è fuggito, dice che non sei tu, ma che sei l'altro. Insomma, adesso mi infervero perché mi piace proprio tanto. Gianluca Favetto, autore del libro Piula delle Betulle, pubblicato da Aboka. Intanto noi ti ringraziamo davvero del tempo che ci hai dedicato, in collegamento da Ruelio, in pratica, dove attorno a te ci sono delle Betulle, tra l'altro. E certo, e certo. E adesso quando esco poi per andare a pranzare con gli amici, passo a fianco a un piccolo corteo di Betulle. E salutaci allora. Le saluto per voi. Grazie, grazie davvero Gianluca. Grazie a te, buona giornata.